La terza commissione, preseduta da Attilio Solinas, ha approvato a maggioranza il disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale sulle modificazioni e integrazioni al testo unico in materia di sanità. Tra le modifiche più rilevanti ci sono quelle che riguardano il benessere animale e gli animali di affezione, con diversi emendamenti introdotti dai consiglieri regionali, a partire da quelli di Leonelli, Partito Democratico e Rometti, socialisti e riformisti. Proposte, che è stato spiegato prima nel voto, mirano a definire la complessità della vita degli animali presenti sul territorio regionale, introducendo disposizioni che vanno a incidere anche sulla salute pubblica e che quindi riguardano il benessere del territorio e i suoi elementi di civiltà. Alla Regione Umbria viene quindi affidato il compito di promuovere i diritti degli animali, disciplinare la tutela degli animali di affezione, promuovere ogni attività finalizzata al superamento della filosofia del ricovero degli animali, favorendo azioni volte all'affidamento temporaneo e definitivo. Nella stessa seduta la Commissione si è occupata anche della legge per il contrasto della ludopatia, approvando due emendamenti che prevedono la riduzione dell'aliquota IRAP solo per gli esercizi che disinstallano le slot e non per quelli che evitano di installarle. Inoltre viene fissato il limite minimo di 500 metri tra gli esercizi che dispongono di macchine da gioco e i luoghi sensibili come scuole, centri sociali e case di cura.